Una frase per sottolineare un gap culturale. Parole che colorano di rosso e mantengono l'attenzione su un problema sociale grave che si consuma quotidianamente contro la donna. Da una donna per le donne. Manifestazioni hanno interessato l'intera penisola. Contro la violenza di genere, statistiche e numeri rendono percettibile il fenomeno in tutta la sua gravità. In alternativa alle scarpe rosse, Carmen Fattoruso ha voluto manifestare così la sua vicinanza e la sua sensibilità sociale. Io con la mia frase ho semplicemente voluto un po' scuotere le coscienze, anche perché oggigiorno vediamo che nonostante i tanti sforzi fatti dalle istituzioni e da tante associazioni, ancora oggi la donna è vittima di violenza. Violenza non solo di tipo fisico ma anche di tipo psicologico. Infatti leggevo proprio stamattina che ci sono ancora il 24% degli uomini che ritengono che le donne vittime di violenza sessuale siano tra virgolette da giustificare in quanto avevano un abbigliamento poco consono, una minigonna, una maglietta più scollata. Quindi siamo ancora a quel livello in cui l'uomo pensa ancora che una donna, solo perché porta una minigonna, possa voler dire sì a qualsiasi cosa. È un problema di cultura e di antico retaggio che interessa l'Italia dal nord al sud. Educare i bambini è la regola per unire e non dividere, per rispettarsi e rispettare, per rendersi conto che uomo o donna si resta uguali, simili nella diversità del sesso. Tutto inizia dall'educazione dei propri figli. Io fortunatamente, lo dico a qualsiasi convegno, qualsiasi diciamo incontro che ho partecipato, non ho avuto questa prima violenza in quanto i miei genitori, mia madre mi hanno sempre fatto giocare con i maschi oppure fare cose anche da tra virgolette a giocare a calcio, qualsiasi cosa. Invece oggigiorno questo dovrebbe essere la cosa importante, cioè dire che una donna, una bambina può fare anche quello che fa un bambino, senza problemi, senza dover essere tra virgolette detta che non può farlo. Quindi io penso che l'emancipazione venga prima di tutto da un'educazione, dall'infanzia e poi venga anche semplicemente dai gesti quotidiani che dobbiamo compiere, come ad esempio chi si mette la miniconna non deve per forza essere una poco di buono per un uomo.